Quarta del convegno, quattro anni a confronto sul migliotto, partecipanti il premio Raja Mirci al numero uno Vardarfalu, Sabato di Vincenzo, due Vasto, Davide Di Stefano, tre Valent SF, Roberto Vecchione, quattro Villa, Gennaro Amitrano, cinque Vinni, Giampaolo Minucci, sei Vigone Riff, Mario Minopoli Junior, sette Vettelopi, Enrico Bellei, in seconda fila otto Varna, del Ronco, Gaspare, Lo Verde Gradualmente la macchina che accelera e stacca All'esterno è molto veloce, Vettelopi lungo la corda si sbriga, anche Valent SF con a ridosso Villa Vettelopi passa a condurre ma sbaglia, ripetendo quell'errore che aveva commesso anche in sgambatura e Vinni riesce a prendere di infilata Villar e si presenta su Valent, Valent sembra intenzionato a lasciare sfilare e Vinni passa a condurre, vediamo a che prezzo, i primi 400 metri di Vinni in 29, sembrano tutte frazioni velocissime e invece poi alla fine, frazioni in tempi normali questo è un 28, invece evidentemente, ripeto come ho detto già prima, la pista è un po' più lenta oggi, Vinni al comando e Varna del Ronco che incalza 44 i primi 600, poi Valent SF con all'esterno Vigone Griff, ancora Villar, Vardar Falu e infine Vasto Jet, a lì che affronta la penultima curva c'è la rottura di Valent SF e così Vigone Griff può sistemarsi nella scia di Vinni all'esterno Varna del Ronco a contatto Villar, siamo a 700 dalla conclusione con Vinni al comando all'esterno sempre Varna del Ronco, poi Vigone Griff, Villar, Vardar Falu si va verso l'imbocco della curva conclusiva, 1.14, 2.000 iniziali, Vinni in vantaggio, Varna all'esterno Vigone a contatto, poi Villar a centro pista viene via anche Vardar Falu, 300 al palo con Vinni al comando, allargo Varna in terza, lo scatto di Vardar Falu che sembra più produttivo poi anche Villar, 200 al termine con Vinni in vantaggio, Vardar Falu che attacca a largo poi Vigone, Villar, Varna, Vardar Falu attacca Vinni e nel finale va a vincere Vardar Falu davanti a Vinni poi Vigone, Villar e Varna del Ronco, 1.58 è un baffo, la media intorno a 1.13 e mezzo 13.6 considerando il parzialino si è partiti fortissimo oggi, il successo per Vardar Falu 3.95 la quota al tot in salchi sabato di Vincenzo, i colori della signora, speriamo di pronunciarla bene, Liudmila Zbankuk, Vardar Falu e sabato di Vincenzo vincono il premio Raja Mirci Grazie a tutti